Questa è Milano, questa è San Silo, questa è Giuseppe Meazza, un saluto da parte di Piero Gipardo e Stefano Nava. Avranno anche inventato il gioco del calcio, ma gli inglesi non sono sicuramente quelli che hanno vinto di più al mondo, a parte il famoso mondiale del 1966. Tanti dolori, tanti Stefano. Non sono riusciti nel corso degli anni a dare seguito al cura, numerosi successi delle loro squadre di club. Sono buoni giocatori, ma manca un fuoriclasse in grado di fare la differenza ad alti livelli. Grazie a tutti. Vediamo i giocatori che scendono in campo. Sembrava volersela giocare a viso aperto, visto che hanno scelto il 3-4-3 a trazione anteriore per cominciare questo match. Speriamo che il loro atteggiamento iperoffensivo si produca poi in campo in gol e spettacolo. Ecco la formazione iniziale. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. Tutto pronto? Si parte. Pronto ad andare, Hazard sul dischetto. La mette. Pagano dalla parte, portiere dall'altra, c'è il gol. Grande successo, nessuna esitazione. Trentissimo, ha trasformato. Sul dischetto va Wayne Rooney. Straordinario, impeccabile questo rigore. Grande classe. Ha spiazzato il potere con una finta. Palla in rete, senza problemi. Sì, è un gol. Che paraccio. Portiere, gara la bocca alla finta. Rimane in piedi e ferma l'attaccante. E c'è il gol. Pogluntiaio. Che coraggio. Ha avuto un grandissimo coraggio. E' stato premiato. E c'è la rete. Perfetta esecuzione. Anche se è una trasformazione al limite del regolamento. Ma per l'arbitro va tutto bene. Questo rigore è decisivo. Non può sbagliare. Non sbaglia. Gol. Un rigore perfetto. Ha interrotto la rincorsa appena prima del calcio. Ha ingannato il portiere. I pensieri, i turbamenti, forse anche la paura, mentre si avvicina al dischetto. E c'è il gol. La mette nell'angolo. Per potere non si è nemmeno mosso. Perfetta la realizzazione. C'è il gol. Perfetto veramente. Imparato. Palla che finisce sul palo. Pericolo. Finisce di no. E finisce qui con questa parata. Parata fantastica. I compagni fanno bene. Stanno imbrioso. Ha angolato troppo il tiro qui, calciando all'arco. Ha sbagliato completamente, forse innervosito dal portiere. Pizzel. Grande intervento del portiere. Premia la corsa sulla tappa. Cross che viene intercettato dal difensore. Prova la botta. Guarda che sorvola la traversa. Altissimo. Palla schizza via dopo il contrasto. Lukaku. Gran tiro. Palo. E non è finita. Attenzione. Palla che finisce sul palo. Pericolo. Chi dice di no? E finisce qui con questa parata. Parata fantastica. I compagni fanno bene. Ha portato in trionfo. Tale. Cosa. Ci hai. 人a ozamentà. Cosa. 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 Cosa.